Il primo modo che abbiamo per interpretare la politica tipicamente è dividerla in due schieramenti, destra e sinistra. La prima domanda che si fa quando si dibatte di politica è ma tu sei di destra o di sinistra? Quando tentiamo di inquadrare le persone, le studiamo, vediamo come si vestono, vediamo come parlano, vediamo i poster che hanno in stanza magari e tentiamo di capire se sono di destra o di sinistra. Perché? Perché destra e sinistra sono delle modalità non le uniche, delle modalità per comprendere una progettualità politica. Ogni realtà associativa che si impegna nei confronti della cosa pubblica ha un progetto, ha una direzione che nasce da una visione, cioè un certo modo di interpretare il mondo e una missione, cioè un indirizzo. Destra e sinistra sono due prospettive, sono due orizzonti di sensi, se vogliamo, che si fondano su due miti, cioè su due interpretazioni che potremmo definire quasi astratte rispetto alla realtà, lontane rispetto a quello che si vive nel momento presente. Perché? Cosa significano destra e sinistra? Destra e sinistra sono un approccio nei confronti del tempo, cioè un modo di immaginare la politica in una concezione prospettica rispetto a quello che la città deve diventare. Deve diventare quando? Da oggi in avanti. Quindi uno potrebbe pensare che sono due progettualità che guardano avanti. Ecco, questo è sbagliato, perché in realtà questi due miti, cioè il mito tra virgolette di destra e il mito di sinistra, guardano uno avanti e uno indietro, indietro rispetto al tempo intendo. Cioè, la destra si fonda su tutto quello che è un mito del passato, cioè si auto-interpreta, considera le forme sociali come, come dire, più valide. No, così non è chiaro, come ve lo spiego bene? Andiamo un po' a mettere in altri termini. Quindi, aspettate che ci ragiono un secondo per farvelo in maniera chiara. Dunque, destra e sinistra sono delle prospettive nei confronti della città. Entrambi vogliono un cambiamento dell'attuale, e questo è normale. Un partito di destra, un partito di sinistra, si candida con un progetto per tentare di trasformare la città, trasformare il paese, trasformare la società. Rispetto a quale prospettiva, rispetto a quale senso, rispetto a quale indirizzo? Allora, la destra si rifà al mito del passato. Cioè, in una logica di destra, i tempi passati erano, in qualche maniera, migliori dei tempi presenti. Perché è un mito? Innanzitutto perché non è vero. Ogni tempo ha i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, evidentemente. Ogni tempo ha i suoi motivi di vanto, i suoi motivi di vergogna. Ogni tempo ha i suoi vizi e le sue virtù. Quindi, quello del passato come tempo migliore è evidentemente un mito. Chiaramente nel passato c'era qualcosa di meglio di quello che viviamo oggi? Sì, certo, è facile da immaginare. Ma c'erano anche cose peggiori? Sì, certo, anche questo è banale, ovviamente. Sì, assolutamente sì. Però, cosa fa la destra? La destra riproietta l'idea che tutto ciò che noi abbiamo ereditato dal passato sia la parte fondamentale della nostra società. Infatti, tipicamente di destra ci sono due indirizzi, che sono il tradizionalismo da una parte e il conservatorismo dall'altra. Desta vuol dire questo. Desta vuol dire tradizione, destra vuol dire conservazione. Qual è la differenza fra le due? Tradizione vuol dire far riferimento, tradizionalismo vuol dire far riferimento alla sostanza sociale del passato. Conservatorismo, invece, alla forma sociale del passato. Sapete, forma e sostanza non sono esattamente la stessa cosa. La sostanza è qualcosa, se vogliamo, di più interiore, di più profondo. La forma, invece, è più esteriore. Bene, quindi, destra significa questa cosa qui. Destra è tradizione, destra è conservazione. E sinistra, invece? Sinistra è il suo opposto. Sinistra si rifà al mito del futuro, se volete anche al mito del progresso, in un certo senso. Cioè, all'ipotesi secondo la quale, alle nostre spalle ci sono tempi bui, ci stanno momenti da dimenticare, insomma, c'è ciò che è male. Invece, al futuro ci sta ciò che è bene. Man mano la storia andando avanti, sta migliorando. Le cose sono... come si vive meglio all'interno della città, perché c'è un progresso tecnologico, c'è un progresso scientifico, c'è un progresso economico, e quindi c'è anche un progresso sociale. Le stesse persone possono migliorare. Le persone del futuro sono migliori, diciamo così, delle persone del passato. Come si chiama questa prospettiva? Questa prospettiva di sinistra si chiama riformismo quando quello che è al centro dell'attenzione è la forma, appunto. Si chiama, invece, progressismo quando al centro della nostra attenzione c'è la sostanza. Pertanto. Il contrario di conservatorismo è riformismo. cambiare le forme. Da una parte c'è conservare o recuperare le forme del passato, secondo anche un mito passato, quindi non necessariamente le forme reali del passato, ma le forme idealizzate del passato. Dall'altra, invece, c'è il cambiare la forma presente rispetto a un mito del futuro, rispetto a delle idee prospettiche che guardano avanti, su cui in realtà nessuno ha veramente certezza della loro validità. Cioè, non possiamo sapere se il progetto che io ho sul futuro sia effettivamente migliore di quello che noi stiamo vivendo sul presente. È una mia idea, è una mia ipotesi. È una prospettiva, appunto. E, invece, se io metto al centro la sostanza delle cose, da un lato ho il tradizionalismo e dall'altro ho il progressismo. Tendenzialmente, quando uno tenta di vedere questo all'interno di un arco costituzionale, noi abbiamo una destra più destra, mettiamola così, più radicale, che è il tradizionalismo. Poi abbiamo una destra più moderata, anche se qui significa, non significa, ma comunque che è il conservatorismo. Poi ci spostiamo dall'altra parte, abbiamo una sinistra più moderata, il progressismo, no, scusate, vedete, il riformismo, e una sinistra più estrema, il progressismo. Ecco, in questo arco, cosa accade? Che, cosa hanno in comune, diciamo, tutte queste quattro posizioni? Hanno in comune il disprezzo, tra virgolette, del momento presente e la costruzione di un progetto secondo una prospettiva molto idealizzata. Perché? Perché dire che il meglio è alle nostre spalle è piuttosto, appunto, ideologico come atteggiamento. Ma anche dire il meglio è di fronte a noi, al futuro, anche questo è abbastanza ideologico. E comunque, in entrambi i casi, si palessa proprio questo, l'incapacità di leggere il presente rispetto a ciò che è nella concretezza. Che è il motivo, tra l'altro, per il quale una dottrina cristiana, la dottrina sociale della Chiesa, se vogliamo metterla in questi termini, o un pensiero sociali cristiano in senso ampio, in senso laico, ha difficoltà a inserirsi in quest'arco. Un cristianesimo politico è di destra? No, no, in realtà no. Perché? Perché non si rifà a miti tradizionalisti? No, non necessariamente. È tradizionale? Sì, certo che è tradizionale il cristianesimo, nel senso che rispetta il valore della tradizione, assolutamente sì, ma è anche conservatore? No, perché in certi momenti della storia il cristianesimo è stato invece quasi rivoluzionario, ha cambiato moltissimo la forma, ma anche la sostanza della società. Ma a partire dai messaggi evangelici stessi, non viene richiesto al cristiano di ripetere le stesse forme del passato. Ecco, assolutamente non c'è niente del genere. Allora il cristianesimo dice, allora è riformista, vuole cambiare le forme. Ma no, non è neanche detto, non è neanche detto, dipende, non è riformista. Alcune forme sono da cambiare, sì, a seconda del contesto sociale, quando non sono più adatte di rispondere effettivamente alle esigenze delle persone, altre no. Ed è progressista? No, ecco, no, questo certamente non il cristianesimo non è progressista, nel senso il cristianesimo non crede nel mito del progresso, non chiede che un domani le cose saranno migliori rispetto all'oggi perché il passato era stato addirittura tragico. Non c'è niente del genere. Ed è il motivo per il quale poi storicamente tutte le forme politiche cristianamente orientate si sono posizionate al centro, tendono a essere centriste. Cosa bisogna comprendere? Che non si tratta di una via di mezzo, però. Non è di, vabbè, sono un po' uno, un po' l'altro, ecco, un centrismo da questo punto di vista. No, non c'entra niente, è semplicemente un approccio rispetto al tempo. Alla fine, il cristianesimo in realtà è molto incentrato sulla vita del presente, sul qui e l'ora, motivo per il quale appunto si distanzia da queste due prospettive esterne. Ora, questo da un lato, destra e sinistra. Poi ci sta invece un altro approccio per leggere la politica contemporanea, moderna e contemporanea, che è quella delle grandi ideologie che hanno a che fare con la visione, come dire, della struttura dello Stato e la visione dell'economia. Queste altre due prospettive sono il liberalismo da una parte e il socialismo dall'altra. Liberalismo e socialismo si fondano su altri ideali astratti, che non sono il mito del progresso da una parte e il mito della tradizione dall'altra, ma sono il valore ideale della libertà e il valore ideale dell'uguaglianza. Perché dico valore ideale? Perché libertà e uguaglianza sono due concetti totalmente astratti. Esistono una quantità enorme di testi per tentare di descrivere cosa significa libertà e cosa significa uguaglianza. In realtà le visioni sono anche potenzialmente molto distanti fra di loro, ma soprattutto sono concetti che non trovano in quanto tale nella loro pienezza una forma manifesta all'interno della realtà. Cioè libertà. Libertà cosa significa? Quale persona si può definire totalmente libera autonoma indipendente autonoma vuol dire autonomo che si dà la norma da solo. Nessuno si dà la norma da solo. Tutti quanti viviamo in un sistema già normato con delle leggi. L'indipendenza è un altro mito. Nessuno è indipendente. Tutti quanti dipendiamo da qualcun altro. Nessun essere umano vive da solo. Quindi appunto la libertà è un concetto astratto. come anche l'uguaglianza. Nessun uomo è uguale a un altro. Siamo tutti appunto quando si parla di uguale si parla di uguale dignità eventualmente. Ma uguale dignità vuol dire poi anche per esempio uguale modalità di partecipazione alla vita pubblica, ugualianza di diritti. Ma ugualianza di diritti in che senso? Che ne so ha senso dare la maternità a un uomo? No a un uomo gli darei la paternità evidentemente non la maternità. E quindi cosa significa ugualianza? Significa equità? Quindi il fatto che si possono interpretare in mille maniere rappresenta proprio questo fatto cioè che libertà e ugualianza sono due valori totalmente astrati. Allora il liberalismo si fonda sul valore assoluto della libertà il socialismo su quella dell'uguaglianza. Il liberalismo ti dice lo scopo di una società è mettere le persone in uno stato di libertà raggiungere lo stato di libertà uno stato nel quale ogni individuo è libero appunto di scegliere della propria vita di far quel che vuole della propria vita motivo per il quale l'organizzazione giuridica l'apparato statale deve essere un apparato molto snello fatto di poche regole per evitare di avere troppe costrizioni sulle persone e permettere a ciascuno di manifestare quello che vuole la propria identità. Stessa cosa è il mercato il mercato dovrà essere libero ecco lì che il figlio del liberalismo politico cioè il liberismo economico e quindi il capitalismo che è quello che conosciamo tutti quanti e che viviamo sostanzialmente noi oggi dall'altra parte il socialismo ti dice no aspetta il tema centrale non è la libertà dicevamo il tema centrale in realtà è l'uguaglianza perché quando tu lasci le persone libere questa cosa crea tanta ingiustizia ingiustizia sociale invece il punto è ottenere sì la libertà ci mancherebbe altro ma all'interno di una logica di uguaglianza raggiungere l'uguaglianza sociale far sì che tutti quanti possono avere ciò di cui hanno bisogno ciò che ciò che vogliono ma se lasci liberi gli attori cioè i cittadini o gli attori economici a seconda del punto di vista sia più politico appunto o sia più economico se tu lasci liberi le persone questa cosa crea disuguaglianza crea disparità e la disparità crea ingiustizia quindi cosa bisogna fare è necessario che lo Stato dall'alto organizzi la vita sociale in una maniera molto più presente e molto più pressante e razionalizzi le attività dei cittadini come se stessimo costruendo un meccanismo che nel suo complesso funziona perfettamente una sorta di orologio quando tutti quanti stanno al proprio posto l'orologio nel suo complesso funziona perfettamente questa è la prospettiva socialista d'accordo? infatti è tipico del socialismo cosa? un'abbondanza uno Stato burocratico un'abbondanza di norme un'abbondanza di leggi un'abbondanza di razionalizzazione dall'alto verso il basso e poi anche cosa? il dirigismo economico cioè il fatto che gli attori economici non devono essere lasciati completamente liberi devono essere diretti in una logica di rispetto degli diritti di tutti quanti per evitare che i più deboli vengano essere calpestati dai più forti capito? la prospettiva dell'uguaglianza la prospettiva del garantire a tutti lo stesso quindi dicevamo uno Stato burocratico il dirigismo economico che può diventare le forme del collettivismo addirittura oppure nella sua espressione più radicale del comunismo politico ecco che quindi noi abbiamo liberalismo e socialismo come grandi ideologie politiche che abbiamo ereditato in realtà dai secoli passati e poi abbiamo destra e sinistra come miti come progetti fondativi rispetto al nostro modo di interpretare la società il desiderio della società cosa succede? che quando noi poi andiamo a incrociare tutte queste noi abbiamo un liberalismo di destra e un liberalismo di sinistra e abbiamo un socialismo di destra e un socialismo di sinistra a quel punto noi abbiamo un socialismo che può essere progressista o un socialismo che può essere invece tradizionalista e abbiamo un liberalismo che può essere appunto progressista e un liberalismo che invece può essere tradizionalista o più semplicemente conservatore e riformista più tipicamente oggi si usano questo tipo di definizioni conservatore e riformista più che non tradizionalista e progressista d'accordo? e quindi ecco che la proposta politica tipica è fatta da queste otto forme anche qui il cristianesimo si ritrova in mezzo con un cacciofo perché il cristianesimo non è liberale in realtà non è liberista non è capitalista non necessariamente assolutamente il cristianesimo non è neanche socialista non è neanche comunista anzitutto perché il cristianesimo non è un'ideologia politica e poi perché come dire anche come dire là il ragionamento conseguente ai valori fondamentali del cristianesimo quindi appunto come dicevamo prima un pensiero sociali cristiano laico oppure la dottrina sociale della chiesa nel senso più specifico del termine è una dottrina che si fonda su altri principi rispetto a quello liberale rispetto a quello socialista e su altri principi come dicevamo prima rispetto a quello tradizionalista o progressista è una cosa totalmente differente e molto più ampia in realtà possiamo dire che e non sarebbe scorretto in realtà è proprio l'humus del pensiero cristiano che poi ha fatto scaturire destra sinistra socialismo liberalismo infatti sono tutte cose che nascono dove? Nascono nell'Europa cristiana non nascono in Cina non nascono in India non nascono all'interno di altre grandi civiltà non nascono nel mondo musulmano nascono da noi nascono da noi perché? perché ciascuna di esse destra o sinistra liberalismo socialismo cosa fanno? radicalizzano assolutizzano un aspetto di quello che è nel suo complesso una macrovisione della società della civiltà cristiana quando è che si verifica questo? si verifica dall'età moderna e poi ancora di più in maniera più chiara con l'età contemporanea quindi dove in un mondo che a un certo momento ha iniziato a secolarizzarsi sempre di più quindi ha iniziato a cancellare la prospettiva ultraterrena tipica appunto di una visione cristiana della società e nel momento in cui questa visione ultraterrena è stata cancellata o quantomeno dimenticata o diventata non più interessante no? non si tratta necessariamente di ateismo può essere semplicemente agnosticismo ma è la stessa cosa e quella cosa che venne come dire affermata in maniera ultima e lapidaria da Nice quando dice Dio è morto cosa significa Dio è morto? significa che Dio all'interno della società è assente la nostra società non si spiega tramite Dio se tu levi Dio la nostra società si capisce perfettamente la nostra società non si capisce invece se tu levi che ti devo dire la tecnologia se levi l'efficientismo se levi grandi modelli economici a quel punto non capisci più niente della nostra società ma Dio è sostanzialmente morto la ragione inizia da questo punto di vista allora nell'età moderna inizia a accadere questa cosa qua Dio sostanzialmente scompare dall'interesse sociale e quindi anche poi politico le persone guardate anche i chiestiani fanno questa cosa e quindi cosa accade? che nel momento in cui questo orizzonte di senso ampio cioè la vita ultraterrena scompare dall'interesse tutto quanto si sposta sul piano terreno e sul piano terreno quelle che sono dei valori apparentemente contraddittori che però in una prospettiva ultraterrena riescono a stare insieme sul piano terreno non riescono più a stare insieme diventano motivo di separazione motivo di conflitto motivo di di distinzione e divisione di progettualità differenti ok? perché se vogliamo metterle in termini così semplici potremmo dire che mentre in una prospettiva ultraterrena c'è spazio per tutti in una prospettiva invece terrena non c'è più spazio per tutti c'è spazio solo per qualcuno nel senso c'è spazio per qualche visione non per tutte le visioni ok? e quindi io lavorerò finché questa mia sia come dire quella principale sia quella che effettivamente vada a costruire le modalità della vita civica del mio tempo e poi chiaramente avvenire bene credo che questo quadro sia più o meno completo poi avremo modo di entrare nel dettaglio in avanti successivamente che